buon dia buon dia non sta con voi udanza di internet ma si deve coperare la tara vai par da riba e chiamarsi che avete 16 di aprile lo so cominciare con un charada troveri fuori dei bucchi di batica bella di meia rica so qua non so scuola ave un charada as que un fuori delante e qui un'je promenano eh sto dicendo qui ma rai e 5 ma busque ora ma rai e van a ora pa busque e saque qui a catch e amas ma rai e 5 ma busque ora ma rai e van a ora pa busque saque qui a catch numero 24 se non mi guarda qui d'alto per me dava contesta senora teatro a riportare contesto ovvero si arriva torino da segui no scuola like no streaming like e mas importante like dame durante di entero e processo tambi con nostra paveta me buvo segui like continui like un biazzo cada vez volai e bobo di corazon bobo di carama os tamimbo dislike tamim o pone angry face un angry face un angry face un angry face non so se si las viste levo alguno notici non ha alguno non SE tami internazional masse ma se importante messe ehm tambi nevo resumi di cose che non so sa compilare sin tambi un resumi di lo che quarantan ha presentave ma che la vista è matutino non di mainta lo che sta dobbio sobra un matutino non può salire a noc questo non ti vespertino di mainta tampocco un saluto un saluto di mai 50 resta lo mondia Rose, Rebelino, Rooney Asciutto ci sono Sì, Ciao e, grazie e, grazie e, grazie e ci sono alcuni sottotitoli che sono e, grazie nella regione sono e, grazie per la America e, grazie abbiamo e ci sono attrazione e, guida a e, a Thaila e anche a Australia Questo è importante perché ci sono informati e ci sono iniziative. Abbiamo ancora una cooperazione con il nostro sistema di internet, sperando che ci si arriva e si arriva. In maniera abbastanza, il reclamo arriva e contrattere con diverse compagnia, caminando a notare di deliver il candidato a contratare. era messa l'attene di nende per visto entre otro esmeralda da vista con andalda contattava dosi in a 30 par dia di speed e da mb e compagnia che era una mista contento che sei però no veniva messa di idea per lo che tra il contratto bocchino alcune bocchino almeno stranita almeno da un via massima non c'era tardi dalmeno di un bocca di questo americo senza il mero che autonoma e bull arriva e parere una coppina e parate di lanci nel vai partire tutti in dilanti non vanno tranquillo in trattico non ti motivo per anzzi a rimasca in pranzo di un cammino di bai trattico da piga la differente parte messa osserva è stato ultimo dia non in e orari la mas increíble però bocchini comportavano salì dar in web o verso di legger sia un tráfico o picamina maria la santa rosa qui grafico picardo caracca sbagli e veramente papi messo come in a time but a me da tappo picata non d'offre malda e cosa da granica tina opi trafico ai tranquillo sono nostre me informazione di un medium in informazione che stai lasciato tra l'abriaco informazione per ottenere una violazione nel corso di DIA. La informazione che Venezuela ha deciso di reattivare e sancionare la contra di PDVSA. Una carta del secretario e del gerente generale di OFAC, OFAC, una licenza commerciale america, ha indicato per motivo di deliberazione con la fracassana a Mexico per il regime di Nicolás Maduro di una passione, una candidata presidenziale di oposizione, una condizione con la merca ponerà una messa per eliminare la sancione contra la Venezuela e le negozazione di prima passare a fracassare. E, entrando a 18 de aprile, ha un regime nuovo di sancione di Venezuela o di merca contra la Venezuela, e principalmente contra la PDVSA, non c'è una copia di sancione di nuovo, non c'è il numero 50, e il numero 50 è un overrultor e un'altra dispensazione con la DUNA, si vengono back a me disperse unية, si vengono back a me disperse un giorno, poi vengono a me disperse un hive, non c'è un grande interesse per constarci se il rielamente va a tener un infarto si o no. è venuto a quello che abbiamo avuto l'anno passato che non sono contento con il nostro riferimento di Koshau non sono contento con quello che abbiamo avuto e poter mirare con il Deng è chiaramente con poter non che era sai step nostro un po querendo con il nostro gol e manda bo però è così non è un lavoro è assinato la cosa che pensa bisogna mantenere il punto di vista che realmente ci sono difficili metà per barriare ora che non è lo che mi ha scrivito e come pone il mio Facebook o Agnami è licenza un mercasa che è una licenza nuova che è nella vigore entrante 18 di April entrante poi la domenica non è domenica e ora si sono andata e si sono andata per vedere che si è magnifica tre senti due parole ora devo andare a prendere i sentimenti di parlare in giro. Vado a guardare che... cosa è che era il nostro senso. Ora voglio investigare, ora voglio indirizzare, voglio asserciare le cose, non dovete allungare, non per attirare la bomba. No, non è vero. Criare panico. Vado a guardare il mondo, mi hanno copia di licenze, sì. E' una nuova. E' un momento che la Venezuela reattiva, e la America reattiva la stazione contro la Venezuela. E' questo motivo, il Miamas, che è libera il Mèxico, a fracassare il regime di Nicolás Maduro, che permette un candidato presidenziale di opposizione per si parte in elezione, come è il nostro programma per MASS Latin, anche in giugno di giugno. perché la America reattiva la stazione contro il schiavismo, per la falta di avanza nella ruta electoral. E' questo è il fracassare delle negozazioni di Manpassà, tra il delegato di Washington e Jorge Rodriguez, che è il rete di delegazione rivoluzionaria di Venezuela. Basicamente, l'opposizione per inscrivere il candidato alla Sra. Marina Corina Machado, che non è arrivato al Tribunale MASS alto di Venezuela. E' un altro candidato, e il filosofo Corina Lloris non è un'escrizione per la scena. Il titolo è il titolo della scena che il registro elezore di Venezuela e, per lo tanto, che è un candidato che in elezione E' importante che il candidato a 1% di voto, 5% o 10% è elegito come Presidente di Venezuela. In questa linea ha indicato un'oposizione di Bonchaz per retomare posizione a Venezuela, ma il reggimento di Nicolás Maduro non vuole lasciare. E' anche il quadro qui, Bradley Smith, il direttore dell'Office of Foreign Access Council, a indicare che c'è una licenza generale nuova, numero 50, che è in vigore, entrante, per certo, non 18, entrante Auecava. E' anche questa è la licenza anteriore, che è stato fatto nel 16 settembre di Aniaki. E, basicamente, la gran parte della transazione deve essere proibito la compagnia americana. E quanto è possibile delle repercussioni? Come ho visto l'onore di una storia in perma. Cos'è stata fatta in una informazione? Che c'è stata la relazione di Venezuela di un'opposizione warre, e lei riese a dar una, e, su a parte dell'accordo di Cera, non sono stata fatta un deal con Venezuela, questo è stato fatto di avere un deal con il mercato di Venezuela, che venezuela manda colchou, colchou vende barina di petroli, ma la base di CETA è un'azienda di metà di quello che venezuela deve. E venezuela deve comprare anche con i diversi aspetti che c'è un retraso, come escezzi la sostanza della piccola, delle affinché non ho una pertinzione. Qui significa questa è andata delle barina di petroli? Ci sono alcune di lavori della state e anche adesso, ci sono alcune di comunicare con le persone con le braccia delle barinzette di petroli nella copia delle barina di petroli. Il nostro amico ha fatto un comunicato con il Presidente di Corxau di excluire il porto e sancionare. Il nostro amico ha detto che la Venezia lo segue e manda il petrolio di Corxau, essendo un mercato grande potente, con un avance democratico nella Venezia. Il nostro amico ha detto che la Venezia non è un costo di più nel nostro negozio per la razza mondialmente. E per me immaginare che la Venezia ha fatto un'impostazione per il accordo con il Corxau. Non solo ci sono queste state case, ma ci sono anche qui, a base di quico, a base di quattro mesi, per presentare un cartel di tempo, e caminando a viso con la cooperazione di colchiamo per raiare a scezione del petroli venezolano per raiare 100 con esceita a dispensare, però non ci sono un nuovo qui lo va a rungare un ruolo in totalità. Naturalmente è stato anche un processo per raiare un operatore per riferimento difficile che non ha provato qui di bypass a Venezuela mapeando con altri paesi, non? Non c'è un silenzio completo e non c'è un negozio con un prefered bidder non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla non c'è nulla, non c'è nulla e poi c'è un altro cosmo che è un ruolo che sta exportando per raiare per raiare in un'applicazione di asfalt per raiare in un'applicazione di asfalt non c'è nulla come sta? E' una questione che fa, che mi piace, che fa, perché sì, C'è un'isola, il'isola, 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 l'isola, e si è un'isola. Iniziamo a fare vedere il cuore di Castellhe Braco, con tanto di campagna sul corso, fa stacca e peca potente in lago di asfalt processi quando tenenata di e disarrolli ademasi bomba bussà famo saca e asfalto e fordere lago di asfalt e asfaltmer che c'è nella nostra rifineria prodotto di opi e di rifinare come si condiziona parte di insalazione di rifineria e poi condiziona parte di condizioni di rifineria che ti può invertire nostra mira che c'è una versione da tua luca con la condizionata la nostra versione da tua luca ma questa è parte di processamento di asfalt a costa sugetto nella lei di poluzione lei nova di poluzione oa inda da nasa attenzione o stato non ha approbato ma già ovicò sta rungando un roll che mi t'abbè bec riba o sindicalista è sindicalista che abissima abbassà sei da un contratista abissà quando mi rai una versione da tomando l'ugà riba terreno di rifineria ma sobrei a companhia di asfalto che era di ma bec bec di comunicare un'affilmone juni a 20 23 colo mestri di copi trago e cotto un'attività economico nuovo poco show per nostra mira potente avanze di e totalità ma qui di sicuro che per esempio il mio amico Luigi Fanetti l'abbai indagata ma delle cose che da manera un espettatore va terreno petroleiro ultimo tempo e la rende il hop di e assunto un'attività di petrole incluyendo il petrole e il fiore della morte di venezuela trecchi a chi era una bella un bai finalmente l'unica domingo salivo di corso di corba un poco raro e dell'unico assente senza sottopischi a riscontargli ma una bai n nata Colleghi non arriva nella rifineria di Corshau qua la summa di lo che è nata a debito e retraso di debito di carriera di 100 milioni di dollari. In un'ahir e l'installazione ha pagato il primo anno e il primo anno e il primo anno e il risultato che la luna larga si impagano così accomunabile di 100 milioni di dollari. In questa rifineria che è di rifineria di Corshau non è accruito di Corshau non è accruito, non è accruito, non è accruito, non è accruito, non è accruito non è accruito, non mi sono accruito, non è accruito. E qui, per esempio, la rinnovazione di licenza che va a effettare la relazione con la PDV e la cosa in casa di 2 quando pari riguardo i negoziazioni invece per una parte di nuovo periferiera, i 3 periferi rinnovazione con la paràquia di asfalti. Non si tratta di asfalti. del genere che sono , non ci ho un comunicato ad ar conquistare con treze之ze per ottenere tranquillità. Non si vece che il contra il portafabo non. Per me, che puoi essere contram, qualcosa che è che è raccolta. E non ti è accruito quando non c'è più Merkel non ti è accruito, non? ma si clicca la differente questione e venire il corso messi gratis ecco giader il corso ea e companhia anonimo di gobierna in nota di patrick newton niente in oltre endita di pueblo di corso entro di pepistas tampouco votare il presentante le accionista eta di pueblo di corso e poi un corso di diretti paz e pregunta da qual è così da parar uno poi è negoziato non che preferito bella o ambo portarello mi ha passato commentare così proveniente fissa su commentare va streaming o e da cieno e deliberazione in silencio era vista tramite del mio corso paz e sono colchou o bico esporta assim publicamente costante avançar pergolamera co aparentemente silencio da bomba di avastro un lugar non capitano nada etapa la ragione Dengfaut è Dengfaut è che la compagnia, non è una compagnia per negociare il secreto, è una compagnia di noi e noi bisogna stare con le costanti. È di Dengfaut, che deve passare la licenza qui, è accordo per che ci sia barri di petroli, per noi generare fondi, per noi cobrire il caos per il PDV, la ragione Dengfaut è fatta di manutenzione e se senti che non la paga. Secondo la corte di arbitraggio, il riferimento di Corsava pretende di ponere un milione di dollari di promessa di Debe e finalmente arriva a un consenso mutuo da 450 milioni di dollari per la birra che paga il petroli di barri di petroli e non si senti che assunti di lago di asfalti. Il lavoro è di seguire con condizionare le parti di rifineria, buscando trado per trado, e ci stiamo presentando come un alivio per il trado, quando guarda il tempo che aveva, per non raiare il trado, per riuscire a reattivare il trado, per se non è cosa venendo, e ci stiamo presentando come una domanda. Ora, ho cominciato un'opinione, se non mi piace questo negozio di totalità, perché è il mio impegno, ma non sia chiaro, ma quanto possibile, arriva e totalità. Contestate le domande? e ho cominciato un'opinione e non si parla. Grazie, non mi piace. Ma è inta! Inoltre ogni cosa sta, va fare la nostra ora di avanza. abbiamo lavorato con sette membri del Parlamento a Bairro Landa, con il nostro ministro non che va a fare, con un'unità in Washington, la vai silenziosamente, e a un'unità in forma a Staten, che va a fare 10 giorni a Washington durante il Fondo Monetario, Internacional e Banco Mondiale, 10 giorni. Un'unità in Rolanda e non annuncia ancora la Bairro Landa, un'unità in Rolanda, non è un'unità in Rolanda, non è venuto nanno a sto. Questo, non è un'unità in Rolanda, ma in Regretro, la corte è intenzione per fare un'unità in Rolanda, quindi c'è un'unità in Rolanda. Non ci sono sette membri del Parlamento, non c'è via un'unità in Rolanda, e la Intertraffic, che si differenta la farla avanti a questa manipulazione con un'unità in di un genaro by colombia a 12 anni ora manipulare la 30 di nge sono qui te sconde entro traffic che vai come leader di delegazione la sua via un bai io la raggiungo è una droga di un barrio na holanda e la bai che ti rende sempre mento vai entro trafico vota mira il beneficio del suo palatino il beneficio e inter trafiche da viva mobilizzazione di tráfico ideano nuovo trafico di un caos stando ai davanti trafiche non è un elemento non è un di suggerimento mondiale non è un tipo di esso e da tráfico è una varia di ferite e mangiare l'angolo non è scelta in tutta l'olanda di qua abbiamo fatto quello che abbiamo passato london da london da shop e non c'è nessuno che non c'è nessuno che non c'è nessuno chi lo sa non mi chiamano sinvergüenza, sinvergüenza la comunità si soffre tutto il giorno non c'è nessuno che si tratta non c'è nessuna cosa più pronto possibile è realmente marato da diventare una cosa ora poi si tratta. Hanno passato e lo scusono se tratta di菩 ofrelli come che non c'è nessuna cosa e un'argaro non c'è nessun abuso completo a corinthia o in generale naturalmente con manipulazione ma che è stato un vicepresidente di Staten, che è stato un po' extrazione, che è stato un po' di riunione, che non si può fare il viaggio. E' un mio carolino, che è un miembro nuovo di Staten, che è stato un po' di sua fama, che non è un po' di lavoro. Mi piace del piano, ma che se è stato un po' di rinforzare, Annamaria Paule, che è stato un po' di ruolo, e il nostro calmo è stato un po' di perda, E il Martino è stato un po' di riunione di Staten, che è stato un po' di rinforzare, ma è stato un po' di colombia, quindi a Parola che è stato un po' di via, perché è stato un po' di rinforzare, che è stato un po' di rinforzare, non sta reclamando via il nang, ma non si chiama l'abbai normalmente. Ma stavre un neus bloed come non è un buon hollandese. Noi sono in un po' di domenica fammi di e, meneer Frances, Lauren, ci dà anche, Frances, Lauren. Noi c'è d'accordo e c'è un po' di arriva avion, da Boulabai. Forse, ma già, ma naturalmente business class. Hotel Caro e inscremento. Ma stai così, ci sono state in un bai, ma stavre forma parte di un fraccio di un mese, che mi ha detto per il tuo buio, se che, di bagazzo di stato, non so, è un fraccio independiente e, come fraccio independiente di un niente che sta autorizzando per il tuo viaggio. La gerida l'antana è molto ricordata in questo non ha decisivo per il traffic. è un po' di rinno, non abbiamo che è un genaro, Carolina, Lauren, Possepa, Pauletta, Cármes e Martinias. Quando mi beca, il trattamento è un po' di direzione, è un po' di rinno, la mobilizzazione sociale è un po' di rinno, è un po' di rinno. è un po' di rinno. È un po' di rinno, è un po' di rinno, è un po' di rinno, è un po' di rinno. C'è un po' di rinno, è un po' di rinno, che è un po' di rinno. di e financial task force se non sai un vol d'onda ma io che spiegavano differente cos'è nel passato e se deve tenere per più sciompa lo sistema monetario lo sistema bancario costruire inconfiabile in vista del mondo che fosse messa la priorità ora che non sta mirando intendo un anno in formazione da poco non è messo un anno sei fuori fatta di informazione e ci occupa da mira per chi deve passare con differenti elementi un dinamio importante internet gambling non è paragonia donando licenza e cava lei non passa ainda non deve passare con internazioni di fronte del paese puxando a regla così sono non che per la habitante non tende a ver con internet camp e poi c'è tempo che è un viaggio in marcellona qui paulanda come un viaggio più 28 a persone che si può rispondere a un trattamento le tratate come classe malta ma come deve con noi rischiamo di più di un minuto maggiore con Malta. L'importante cosa è importante. Malta sta aiutando Corshau come competitor del asunto di Internet Gambling quando viaja e mi lista suave a Malta. Internet Gambling è un costo che viva un batata caliente di Gurt. No per noi, ma per il mondo, non per noi. l'impianto Questa è parte di Staten. Il voto? Il voto? I aggiorni ho i messaggi, una cosa è una cosa, un'esprezzamento, un'esprezzamento. Dage un'esprezzamento. Il quadro di Ministerio di Infraestrutura abbiamo into fatto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.